Torna anche quest'anno a Palermo la fiera dell'editoria indipendente Una Marina di Libri, festival letterario tra musiche, incontri, dibattiti e reading organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Piazza Marina. L'evento si terrà dal 6 all'8 giugno alla Galleria d'Arte Moderna di Piazza Sant'Anna. Quest'anno alla direzione artistica un sodalizio importante, le case editrici palermitane Navarra e Sellerio. Ospite d'onore di quest'edizione della fiera sarà Andrea Camilleri, che torna a Palermo dopo un'assenza di oltre dieci anni per presentare il suo ultimo romanzo La Piramide di Fango. Tra gli ospiti anche Alicia Gimenez Bartlett, Simonetta Agnello Hormi, Adriano Sofri, Davide Orecchio, Marco Steiner e Davide Camarrone.